Non so se ti ricordi di me, ci siamo visti in palestra, vabbè, comunque, visto che siamo qua, ti va di prendere un caffè? Va bene, ma in amicizia. In amicizia, sì, appunto, anch'io pensavo quello, non è che, non sono come tutti, no, in amicizia pensavo... E' la ragazza della palestra? Quella che hai addocchiato da un anno? Siamo amici, siamo in amicizia adesso. Mi raccomando, stai attenta che questo qua non scherza, eh, penso solo a quello. Quello cosa? O fate i bravi, eh, mi raccomando. In amicizia, comunque, in amicizia.